Ben ritrovati, grazie a Francesca Ambrosini. Abbiamo parlato nella prima parte del nostro spazio ampiamente di politica con i tre temi del giorno. Naturalmente continuiamo a seguirli perché il Consiglio dei Ministri è in programma alle 10.30 e ha all'ordine del giorno due fatti principali. Primo il baro del decreto cosiddetto Salva Roma, sostanzialmente per evitare il default del bilancio della capitale di 800 milioni di euro. Dopo le risposte, il botto e risposta duro che c'è stato tra Renzi e Marino. Altro argomento importante è la nomina dei 45 sottosegretari, così si completa la squadra di governo. Quindi staremo a seguirli anche con la nostra inviata a Palazzo Chigi. Ma ristiamo a parlare di politica ma anche e soprattutto di economia. Con i nostri ospiti li vado subito a presentare in collegamento dagli studi di Roma. Michela Morizzo, vicepresidente dell'Istituto Tecne. Buongiorno, grazie per essere con noi. Il professor Mario Baldassarri, economista, ci siamo sentiti due giorni fa per commentare appunto dei dati importanti. Adesso ne arrivano altri a cominciare, professore, da quello del più che un dato diciamo è un benvenuto al governo Renzi da parte del Fondo Monetario Internazionale. Un incoraggiamento anche abbastanza insolito a proseguire sulla via dell'abbassamento delle tasse o almeno del non aumento. Sì, buongiorno intanto. Beh, certamente, ma il Fondo Monetario Internazionale non poteva dire altro, voglio dire. È un'apertura di credito in base ai titoli del programma annunciato. E sui titoli non può che esserci accordo. Devo dire che il fondo, anche l'altro era forse un atto dovuto, ha espresso apprezzamento per il Ministro dell'Economia, Piercarlo Padovan, che è stato molti anni al Fondo Monetario Internazionale e quindi è noto, diciamo, in quegli ambienti anche per le idee di rigore ma anche per le idee di sostegno alla crescita economica. Certo, poi daremo conto, professore, dell'altro, diciamo, del risvolto della medaglia un po' meno dell'altra notizia economica che riguarda l'Italia un po' meno bella, cioè quella che arriva dalla Commissione Europea con la lettera per andare a spulciare in realtà dietro la rivalutazione delle quote Banca Italia se non ci siano degli aiuti di Stato, come dire... Sì, sì, ma questo è proprio il punto. Vede che il Fondo Monetario Internazionale non da adesso, già da anni, ha in qualche modo spesso critiche all'Europa proprio per la bassa crescita e per le politiche esclusivamente di rigore e di austerity che rischiano di non ottenere neanche l'obiettivo dell'equilibrio finanziario. E la Commissione, al di là della questione specifica Banca d'Italia, che ribadisce, è ferma e anchilosata a quei totem che sono i trattati che francamente costringono l'Europa a non crescere. Non c'è una crisi nel mondo, c'è una crisi europea e la crisi europea ha dentro la crisi italiana e queste due crisi non dipendono dal resto del mondo, ma ce le siamo costruite con le nostre mani dentro l'Europa e dentro l'Italia. Ecco, crisi europea, crisi italiana. Accanto a lei c'è seduta Michela Maurizio, il vicepresidente dell'Istituto Tecne, a cui noi di Tg.com24 abbiamo commissionato un sondaggio proprio sulla percezione dell'economia e dello Stato, diciamo, dell'economia italiana da parte degli italiani. Qual è allora questa percezione? Innanzitutto detta in maniera macro, cioè positiva e negativa, poi la andiamo a vedere nel dettaglio. Ma, diciamo, complessivamente possiamo dire che il trend di queste ultime settimane è sempre un pochino peggiorato, nel senso che rivedendo anche l'andamento della fiducia, ecco, del clima, della situazione economica dell'Italia, vediamo che il clima sociale che è legato alla media delle ultime quattro settimane, compresa quest'ultima che abbiamo rilevato, è tendenzialmente peggiorato. Ma se vediamo il cartello successivo, l'analisi del trend... Intanto la interrompo solo un istante. Sì, perché sono usciti in questo momento, mentre lei stava parlando, dei dati abbastanza scioccanti sulla disoccupazione, perché l'Istat li ha pubblicati adesso, disoccupazione giovane a 42,4%, mentre vedo che il professor Baldassarri dice il famoso come voleva si dimostrare, sono 690 mila, quindi tasso di disoccupazione dei 15-24 anni a gennaio pari al 42,4%. Si tratta del tasso più alto sia dall'inizio delle serie mensili, cioè del gennaio 2004, è il dato appunto mensile, sia delle trimestrali, cioè dal primo trimestre del 1977. I giovani in cerca di un lavoro sono 690 mila, dati che non vanno certamente ad aiutare, quello di cui stiamo parlando, la fiducia cioè negli italiani. Prego, appena arriveranno gli altri dati più dettagliati li daremo in diretta. Esattamente, questo è un indicatore di come sia difficile attualmente avere una crescita della fiducia rilevante. Se andiamo a vedere infatti le medie mensili degli ultimi 12 mesi, il cartello successivo, vediamo come la percezione della situazione economica dell'Italia tra 12 mesi è ulteriormente peggiorata, cioè solamente il 39% degli intervistati ritiene che la situazione economica tra 12 mesi sarà migliore di quella di oggi. Se è possibile vedere il cartello relativamente... Questo però, così vediamo, approfittiamo anche della presenza del professor Baldassari, così cerchiamo di capire anche questo in termini di consumi, della famosa propensione al consumo che in tutti i modi si sta cercando di spingere. Cosa comporta, professore? Una sfiducia verso l'immediato futuro ci fa pensare che ancora di più aumenterà il risparmio, no? Se si avverte questa incertezza. Ma guardi, questi dati di Tecne dimostrano, non da oggi, che gli italiani sono persone normali, per bene, sagge, sagge, e non sono cretini, cioè gli italiani non sono cretini. Allora, cosa hanno percepito? Che ammesso che ci sia una lieve ripresa della produzione del PIL, è chiaro che stiamo parlando dello 0,08% dell'ultimo trimestre dell'anno scorso, il dato di fatto, ammesso che ci sia questa lentissima ripresa, la disoccupazione continuerà ad aumentare sia quest'anno che l'anno prossimo. Il debito pubblico continuerà ad aumentare fino al 2018, visto che fino al 2018 le stesse proiezioni ufficiali del governo italiano non parlano di azzeramento del deficit. Quindi se il deficit non si azzera, vuol dire che il debito continua a crescere. Allora, queste due spade di Damol, che è la disoccupazione che aumenta e il debito che aumenta, fa in qualche modo esprimere gli italiani normali nel senso dei dati che diceva adesso il vice direttore di Tecne. La gente sa che per uscire da questa crisi profonda l'Italia avrà bisogno di 6-7 anni ancora. E allora si può cambiare l'atteggiamento e l'umore, ma di fronte a certezze anche in termini di orizzonte temporale. Qui non sappiamo da qui all'anno prossimo quanti milioni di famiglie non avranno la possibilità di fare la spesa mensile. Siamo già a 3 o 4 milioni di famiglie. Ci arriviamo tra pochissimo perché anche questo argomento che lei sta toccando, proprio la spesa delle famiglie, fa parte, se non sbaglio, del sondaggio di cui adesso ci parlerà Tecne. Ne commentiamo una volta insieme così poi andiamo avanti. Prego, Morizzo. Esattamente. Intanto il professor Bardassari ha proprio ragione, nel senso che comunque il dato positivo che è stato dato appunto con questo aumento del PIL è come dire da tenere presente che è sempre collegato, è stato, è collegato a sostanzialmente all'incremento dell'export, quindi di una domanda esterna che non significa che in questo periodo la domanda interna è migliorata. Anzi, quindi in realtà diciamo il clima, i dati che rileviamo e che stiamo vedendo insieme percepiscono proprio invece la quotidianità degli italiani e delle famiglie, i dati sulla disoccupazione che stanno uscendo come proprio qualche minuto fa. Infatti stiamo vedendo nel nostro bandino, non so se lo vedete anche voi, il dato appunto al 12,9% che significa appunto in termini di numeri, cioè di persone che i disoccupati in questo momento sfiorano i 3,3 milioni e sono ancora dei dati provvisori. Prego. E arriveremo al 13,5-13,6% a fine anno e nel corso del 2015. Mamma mia. Non ci incoraggia questa previsione. No, 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 ma bisogna essere realisti. Perché chi ci ascolta, devo dire, ripeto, è saggio, è per bene. L'italiano normale non è cretino, lo ripeto una seconda volta. Andiamo avanti a vedere il sondaggio. E infatti vediamo come, quando si parla della situazione economica della propria famiglia, i giudizi positivi sull'attuale sono solamente il 6% contro il 94% di giudizi negativi. E sulla percezione della situazione economica tra 12 mesi... No, però un attimo, no, no, vorrei fermarmi un secondo, perché sennò li scorriamo troppo velocemente, invece vorrei soffermarmi appunto con lei e con il professor Baldassari. La situazione economica della propria famiglia, se possiamo tornare al cartello iniziale, cioè quello oggettivo 6,94%, eccolo qui, cosa si intende per la percezione della propria famiglia? Cioè in che acque si versa? Che cosa avete messo nel paniere delle vostre domande? In questo caso viene chiesto come viene percepita la situazione economica della propria famiglia, cioè se nell'ultima settimana è migliorata o peggiorata. e diciamo il riquadrino laterale che vediamo dove è indicato il clima sociale è indicato la media delle ultime quattro rilevazioni, ovvero sia dell'ultimo mese di rilevazione. Quindi diciamo dal punto di vista economico si parla quindi il che si riflette ovviamente poi sui consumi, sulla propensione all'acquisto e il 6% è una percentuale bassissima su chi ha giudizi positivi quindi sulla propria situazione economica. Se si pensa dal marzo 2013 a febbraio 2014 questo dato ha perso tre punti percentuali. Siamo partiti dal 9% di giudizi positivi un anno fa al 6%. Quindi come dire il clima in maniera un po' altalenante comunque è stato sempre come dire è andato peggiorando. Rispetto al mese scorso c'è stato un piccolo miglioramento. Siamo passati dal 5 al 6% dei giudizi positivi. Ci siamo riattestati sui livelli di fine anno tra novembre e dicembre quindi. E questo insomma non fa altro che appunto andare a corroborare quelle previsioni di cui parlava il professor Baldassari perché se uno percepisce che la propria famiglia diciamo non nuota in buone acque come si suol dire certamente avrà un atteggiamento conseguente e in termini di domanda interna professore questo ne risentirà. Beh certamente sì perché il dato sulla situazione in queste ultime settimane come abbiamo visto è 6% che dice di avere prospettive buone ma il 94% dice che sono peggiori. Se lo guarda da qui a 12 mesi, se alla stessa famiglia gli chiede ma fra 12 mesi come pensa che la sua famiglia potrà stare? E allora si vede che il dato verde migliora un po'. Diciamo una parte delle famiglie forse non è una certezza, è una speranza. Pensa che fra 12 mesi potrà stare un po' meglio di adesso ma il dato di fatto è che tre quarti delle famiglie continuano a dire che starà peggio di adesso tra 12 mesi. E poi il dato molto banale, è chiaro che le famiglie vanno a fare la spesa e consumano se hanno i soldi ma ci rendiamo conto che rispetto al 2007 oggi in questo giorno, in questo mese in Italia ci sono circa 3 milioni di stipendi al mese in meno rispetto al 2007 tra i maggiori disoccupati, i cassa integrati e coloro che come si dice scoraggiati nel senso che non hanno un lavoro e non lo cercano più neanche mancano 3 milioni di stipendi al mese rispetto al 2007 ora se facciamo una media di 15 mila euro l'anno di stipendi senza esagerare questo significa 45 miliardi di euro di stipendi in meno poiché quando vado a fare la spesa attivo un moltiplicatore ovviamente che è pari a 2 o 3 ecco che 45 per 3 fa 130 miliardi in meno guarda caso è esattamente il PIL che abbiamo perso cioè il 10% tra il 2007 ed oggi non è che occorrono grandi modelli sofisticati per fare 4 conti questi conti le famiglie le sanno fare meglio di tanti soloni come il sottoscritto che fa l'economista e di tanti altri soloni che magari vanno in giro a elencare i titoli di un libro dei sogni facendo politica o magari facendo anche altri mestieri ecco allora andiamo a vedere proprio con l'aiuto del prossimo cartello Michela Morizzo la situazione che percepiscono gli italiani della propria famiglia tra 12 mesi che ha già anticipato mi pare il professor Baldassari esattamente corrisponde esattamente a quello che diceva il professor Baldassari ovvero sia il 29% degli intervistati ritiene che tra 12 mesi la propria situazione economica sarà migliorata contro un 71% che vede invece un ulteriore peggioramento chiaramente c'è anche la speranza ovviamente cioè se la situazione attuale è proprio contingente sul futuro c'è una dose di speranza che insomma anche gli intervistati mettono in conto nel momento in cui danno la risposta avete chiesto perché mi incuriosisce tra gli elementi di speranza c'è anche quella del neonato governo avete avuto modo di fare domande che siano connesse alla situazione politica attuale in qualche modo o avete percepito che c'è anche questo in quel 29% che spera? ma allora ci sono stati momenti nel corso dell'ultimo anno di rilevazione in cui si è visto in maniera molto forte l'influenza dell'ingresso un anno fa ad esempio tra maggio e giugno del nuovo governo e la percezione di quanti ritenevano che nell'arco di un anno la situazione sarebbe migliorata si era molto alzata, si era arrivata a un 48% rispetto al 39% che abbiamo visto nei cartelli precedenti questa mattina attualmente è ancora forse un pochino presto per vedere ancora questo segnale anche perché in quest'ultimo anno di cose se ne sono successe tante se nella realtà dei fatti per gli italiani non è cambiata la loro situazione se non magari ulteriormente peggiorata quindi c'è minore profensione ad essere così ottimisti e ad avere così dei salti in positivo in maniera forte Certo, professor Baldassari per la sua ormai lunga esperienza quando c'è un cambio di governo generalmente a prescindere se poi i proclami si concretizzeranno quindi diventeranno davvero dei fatti le persone hanno un moto di speranza che poi si traduce in una maggiore voglia di spendere oppure le due cose sono scisse non c'è questa componente psicologica legata alla politica Ma guardi, vado anche al di là nel senso che secondo me indipendentemente dalle posizioni politiche che ciascuno legittimamente può avere il governo Renzi è l'ultima speranza nel senso che abbiamo avuto il governo tecnico di Monti poi abbiamo avuto il governo Letta di Largentese adesso abbiamo il governo Renzi se toppa, come si dice a Roma, il governo Renzi beh la situazione diventa veramente, veramente difficile e forse tragica il problema adesso è, come sempre, le persone attendono ci sono stati degli annunci sono stati dati dei titoli di programma di governo delle riforme da fare ma ci sono due condizioni e qui dopo aver dato il tema bisogna vedere lo svolgimento di quel tema e quindi quei titoli come si trasformano in proposte disegni di legge, decreti legge e quant'altro secondo, ancora più importante e io cerco sempre di richiamare la politica a questa responsabilità è dove trovare le risorse per fare quelle cose cioè le coperture perché sennò è un gioco un po' da Luna Park Sì, sì, ma questo è nel merito, professore, assolutamente Siamo tutti bravi a proporre tagli di tasse alle famiglie tagli di tasse alle imprese rilancio degli investimenti e cose varie questo va tutto bene riforme sul mercato del lavoro il reddito minimo di cittadinanza tutto quanto va bene ma la politica dovrebbe confrontarsi al punto 1 del confronto su dove prendere le risorse e questo abbiamo avuto modo di dire quali tagli di spesa lo diciamo da anni anche nei confronti del neonato governo Renzi abbiamo avuto modo di sottolineare che questo diventerà il punto fondamentale il cosiddetto banco di prova con cui Renzi si dovrà misurare quello a cui mi riferivo io invece è una componente psicologica legata al cambiamento se esiste oppure no come percezione delle persone restante il fatto che la situazione oggettiva non cambia da un giorno all'altro perché cambia il premier o la squadra di governo ma proprio quell'accensione della speranza le chiedevo se l'avesse mai riscontrata oppure no vista la sua lunga esperienza che di governi ne ha visti insomma passare ma certamente sì la speranza della grande rivoluzione liberale che il centrodestra avrebbe dovuto fare nei decenni passati per qualche mese ha funzionato poi quando ci siamo accorti che in realtà invece di abbassare le tasse venivano aumentate le tasse e la gente poi è molto concreta fa i conti con i soldi in tasca quindi anche in questo caso la speranza si può accendere sui titoli ma la speranza vera quella che può modificare psicologicamente i comportamenti delle famiglie e delle imprese è quando vede concretamente l'inizio del percorso cioè il governo deve inchiodare per terra i due binari delle riforme metterci sopra il treno Italia e poi dargli la spinta per farlo partire a quel punto la speranza può concretizzarsi in un atteggiamento e nei comportamenti di famiglie e imprese verso la ripresa e quindi verso il positivo ma finché non vedo i binari inchiodati per terra e il treno Italia che ci sta sopra è un'apertura di credito ma non è ancora una speranza concreta quindi è un'apertura di credito che rimane psicologica ma non si trasforma nel mettere le mani al portafoglio tanto per capirci andiamo avanti con il sondaggio con le aperture di credito con le aperture di credito non si va al supermercato per riempire il carrello esatto, perfetto andiamo avanti con il sondaggio esattamente ecco a proposito di carrello vediamo il bilancio familiare della settimana gli intervistati vediamo che a livello di clima sociale nell'ultimo mese c'è stato un leggero miglioramento la media è migliorata che cosa significa? significa che rispetto al mese precedente è calata la percentuale di coloro che sono andati ad intaccare i propri risparmi quindi quel 30% su banda rossa è calato rispetto al 33% di un mese fa quindi da quel punto di vista un segnale positivo che però non significa automaticamente incremento dei consumi ma questo perché? perché il minore indebitamento normalmente si trasferisce in una tendenza a mantenere in equilibrio le entrate e le uscite quindi comunque in un atteggiamento di prudenza e quindi va a danno dei consumi in ogni caso ecco proprio perché se si riesce a risparmiare qualcosa se riesce a risparmiare qualcosa l'italiano il cittadino al momento cerca di tenerlo come riserva più che utilizzarlo per aumentare i propri acquisti quindi è uno dei rari casi in cui una cosa non corrisponde all'altra esattamente è migliorato nel senso che appunto abbiamo visto come questo dato non sia ulteriormente la colonina rossa non si sia ulteriormente alzata però nel contempo non è abbastanza e non è sufficiente per poter dire che se ripartono i consumi e che insomma il cittadino ha una maggiore propensione alla spesa proprio perché anche come diceva il professor Baldassarri adesso sono tutti un po' alla finestra nel senso che alle promesse non crede quasi più nessuno nel senso le premesse ci sono tutte però vogliono veramente vedere questo treno partire per poter avere una fiducia operativa cioè una fiducia pratica che si traduca poi in un miglioramento giusto il nostro titolo la crisi fa ancora paura nel senso che vogliamo crederci ma siamo costretti ad aspettare siamo un po' timorosi esattamente andiamo avanti ecco vediamo come il carrello della spesa di questa settimana e questo combaccia un po' con quello che abbiamo detto proprio poco fa è andato peggiorando nel senso che l'82% degli intervistati ha ridotto ulteriormente la quantità di prodotti acquistati o ha acquistato prodotti di qualità inferiore ecco si parlava anche insomma non più di qualche giorno fa di come ci fosse una tendenza molto increscendo anche dell'utilizzo di alimenti scaduti e basta girare nei supermercati per vedere come spesso bisogna andare a guardare nelle file dietro per trovare alimenti come dire con scadenza un po' piuttosto più lontana ma tendenzialmente si usa anche fare delle offerte su prodotti a scadenza molto breve quindi da quel punto di vista lì sì no volevo chiedere al professor Baldassari così appunto continuiamo a commentarli insieme quel 18% che dice abbiamo acquistato tutto quello di cui abbiamo bisogno esattamente come 12 mesi fa che fascia di reddito va a fotografare beh certamente coloro che non hanno perso il lavoro coloro che quantomeno hanno mantenuto il reddito e coloro che hanno alle spalle magari un risparmio sotto forma di un immobile o un piccolo risparmio e quindi hanno una situazione relativamente più tranquilla e quindi non modificano i propri standard di consumo o non ritengono di doverli modificare certamente non è che li aumentano perché quel 18% dice che fa la spesa come l'anno scorso non è che l'ha raddoppiata sono pochi a me veniva in mente che è una fascia di reddito molto alta cioè lei ha detto quelli che non hanno perso il lavoro così ma vedendo solo il 18% viene in mente che sia una fascia abbastanza alta di reddito beh certamente è quel 20% di italiani che avendo dei redditi medio-alti e avendo alle spalle un patrimonio medio-alto la crisi la sentono molto meno problema tragico delle crisi economiche di questo tipo è che chi le paga sono i poveri e prevalentemente la classe media che diventa povera questo è il punto certo assolutamente ultimo ultima parte del sondaggio Michela Morizzo esattamente diciamo quello che diceva adesso il professore cioè l'erosione del ceto medio è proprio evidente nell'ultimo cartello cioè si vede come tanto ah ecco no questo è diciamo sono i prodotti su cui si è andato il dettaglio del cartello di prima questo i prodotti su cui si è risparmiato esatto su cui si è andato a risparmiare sarebbe interessante purtroppo non abbiamo tanto tempo quindi mi interessava invece quello che stava dicendo sulla situazione generale prego sulla situazione generale l'erosione del ceto medio vediamo come c'è stato un crollo nel corso dell'ultimo anno di chi non aveva nessuna difficoltà economica si partiva dal 41% del febbraio 2013 e siamo crollati al 31% al febbraio di quest'anno quindi anche chi prima appunto aveva la possibilità di mantenere il proprio equilibrio finanziario senza difficoltà si è trasferito nella categoria di coloro che fanno fatica ad arrivare a fine mese in parte quindi vediamo in questo un incremento siamo passati in un anno al 37% e poi come dire sono aumentati anche notevolmente coloro che sono in difficoltà economica difficoltà economica soprattutto vediamo come la bandina rossa della difficoltà economica molto grave è aumentata di 5-6 punti percentuali nel corso dell'ultimo anno quindi prego professore proprio da questo cartello che dà le percentuali vorrei far capire se lo tenete inquadrato è meglio ecco grazie perché le percentuali sono importanti però traduciamoli milioni di famiglie allora nell'anno scorso a sinistra nella parte rossa il 26% di famiglie aveva già l'anno scorso difficoltà serie profonde bene significano siamo 21 milioni di famiglie circa che siamo circa 5 milioni e mezzo di famiglie che già l'anno scorso avevano delle difficoltà più il 33% già l'anno scorso la parte azzurra di famiglie riusciva a fatica ad arrivare a fine mese e siamo ad altri 6 milioni di famiglie che vuol dire che l'anno scorso avevamo 11 milioni di famiglie che facevano fatica ad arrivare a fine mese oppure erano proprio in condizioni molto serie bene oggi a febbraio 2014 vedete che 10% di famiglie in meno che dichiarano di non avere difficoltà 10% sono 2 milioni e 100 mila famiglie in più rispetto all'anno scorso dove sono andati questi 4% a quelle che faticano a raggiungere fine mese e 6% sono andati direttamente tra quelle che hanno gravissime difficoltà quindi rispetto a quegli 11 milioni di famiglie dell'anno scorso siamo arrivati a oltre 13 milioni di famiglie che per un terzo o il 40% diciamo circa il 40% 37 hanno difficoltà ad arrivare a fine mese e per il 32% sono in situazioni difficili quindi parliamo di grandi numeri di fronte a questi numeri che mi pare questa volta facciano il paio cioè non c'è una smagliatura tra i dati della disoccupazione che l'Istat ha pubblicato mentre ne parlavamo insieme questo 12,9 che significa 3 milioni di persone che sono disoccupate la percezione che hanno gli italiani e la situazione che lei ci ha spiegato così bene nel dettaglio mi sembra che non ci sia nessuna sbavatura cioè tutto purtroppo in maniera non positiva vada a coincidere della situazione attuale io vi devo ringraziare perché il nostro spazio è finito grazie al professor Mario Baldassari grazie a Michela Morizzo e noi ci salutiamo soltanto per qualche istante ci separiamo poi rimanete con noi ci sono le breaking news e di nuovo insieme